Per la rubrica un minuto di storia con Mario oggi parliamo di Costantino il Grande, l'imperatore Costantino, che muore il 22 maggio del 332, siamo nel IV secolo d.C., muore in Turchia, allora si chiamava Anatolia, nella città di Nicomedia. L'imperatore Costantino è certamente una delle grandi figure della storia dell'umanità, non fosse altro per l'apertura dell'impero romano al cristianesimo, prima con la battaglia di Montemilvio, quella in cui prima appunto dello scontro con Massenzio a Ponte Milvio, Costantino sogna la croce, in hoc signo, per questo segno vincerai. E poi per l'editto di Milano che nel 313 legittima il cristianesimo.